Anzio malmenava e derubava la madre, arrestato. Due tunisini regolari arrestati per spaccio a Nettuno. Il professor Marchiafava nel rutere a fianco al santuario, condizioni igieniche rischiose. Bimbo soccorso a Corsa Italia ad Anzio, il padre ringrazia i medici. Sviene al mare a Lavigno, racconta salvata da tre angeli del 118. Salviamo Torre Astura, presenti i sindaci e il vicepresidente della giunta della regione Lazio. Il sindaco di Anzio premia in consiglio i campioni della pallannuoto e del calcio A5. Salve amici di NiantiVu e ben ritrovati con l'edizione locale del nostro Tg. Andiamo subito a vedere le notizie. Cominciamo con una notizia di cronaca. Ad Anzio malmenava e derubava la madre in manette un 33enne di Anzio. Aveva picchiato e rubato i soldi alla mamma di 71 anni per diversi mesi. La minacciava e la percuoteva per rubare gli soldi della pensione nella loro casa di Anzio. Poi la donna, grazie all'interessamento dei servizi sociali del comune neroniano e dell'Asle Roma 6, è stata trasferita in una struttura casa famiglia protetta dove è stata seguita e dove ancora si trova. La signora, stanca delle violenze domestiche, a sporto denuncia contro il figlio 33enne già conosciuto alle forze di polizia, gli agenti del commissariato di Velletri nel maggio scorso. E questa mattina i poliziotti di Velletri hanno arrestato il figlio violento per maltrattamenti continuati e rapina aggravata e trasportato in carcere a Velletri. Su disposizione della procura di Velletri, diretta dal procuratore capo Giancarlo Amato, Le indagini dettagliate sono durate oltre un mese a cura della squadra anticrimine del commissariato, diretto dal vicequestore Luca De Bellis. Due tunisini irregolari arrestati per spaccio a Nettuno sono stati sottiposti all'obbligo di firma in attesa dell'espulsione dal nostro paese. I controlli incessanti degli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Anzio e Nettuno per contrastare il fenomeno della detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ha avuto il picco operativo con l'arresto di due cittadini tunisini sorpresi a spacciare lo stupefacente nella zona di scacciapensieri a Nettuno. Dopo un attento controllo addosso ad uno di loro è stata rinvenuta una somma di denaro e sei dosi di cocaina. Entrambi sono stati fermati e processati per direttissima presso il Tribunale di Velletri. Sono stati sottoposti all'obbligo di firma in attesa dell'espulsione dall'Italia. A Nettuno il consigliere comunale e dottore Valdemaro Marchiafava interviene per quanto riguarda il rudere a fianco al santuario di Nettuno condizioni igieniche rischiose. Ultimamente fioccano da parte dell'opposizione segnalazioni sull'incuria e la superficialità con cui vengono gestite o non gestite alcune criticità dell'attuale maggioranza. Quest'area in realtà è ciò che mi preoccupa maggiormente. Oltre allo scandalo per gli occhi mi preoccupano molto le malattie infettive che stanno proliferando in questa pallude e che potrebbero infettare chiunque, specie i bagnanti che frequentano gli stabilimenti limitrofi. E siamo un paese a vocazione turistica. Questa la presa di posizione del consigliere comunale e dottore Valdemaro Marchiafava sul rudere che si trova a fianco del santuario di Nostra Signora delle Glazie in uno stato igienico sanitario devastante. Bimbo soccorso lo scorso 28 giugno a Corso Italia ad Anzio. Il papà del bambino ringrazia i medici. È con profonda commozione che il papà del bimbo di tre anni e mezzo soccorso a Corso Italia ad Anzio il 28 giugno scorso vuole ringraziare i medici che sono a corsi per salvare suo figlio. Mio figlio ha un problema di salute dalla nascita e spiega all'uomo che sembrava stesse migliorando. Lo scorso anno ha avuto una crisi epilettica che ha portato delle serie conseguenze, ma era in netto recupero. Anche allora i medici sono stati bravissimi. Il 28 giugno mio figlio è svenuto. Ho chiamato il numero di emergenza e in meno di 10 minuti sono arrivate tre ambulanze e un'eliambulanza. La situazione era complessa. Alla fine mio figlio è stato portato al pronto soccorso del bambino Gesù in ambulanza. Ci abbiamo messo 40 minuti, ma si è salvato. Mi curo io di mio figlio insieme a mia madre e voglio ringraziare i medici di Anzio a Corsi con le ambulanze che sono stati bravissimi e gentilissimi. E voglio ringraziare il medico che ci ha accolto al pronto soccorso del bambino Gesù a Roma. Non so il suo nome, ma non mi scorderò mai di lui e di quello che ha fatto per mio figlio. Oggi siamo tornati a casa e la situazione è migliorata. Ringrazio tutti perché ora siamo di nuovo a casa tutti insieme e questo è l'importante. Sviene al mare a Lavinio e racconta salvata da tre angeli del 118. Lunedì 5 luglio e intorno alle 18 sono stata soccorsa dagli operatori del 118 di piazza del Poggio Lavinio in tempi record. Dopo un improvviso malore in spiaggia nei pressi dello stabilimento Lascialuppa. Invio una testimonianza per ringraziarli per la velocità, la professionalità con la quale mi hanno rimessa in sesto. Grazie. Ieri, spiega la donna, ho toccato con mano la solidarietà e la velocità di intervento del 118 di piazza del Poggio Lavinio Anzio. Facevo ritorno dalla spiaggia e mi accingevo a lasciare i 118 gradini che mi riportano a casa. Ero stanca e accaldata, la lunga passeggiata fatta un'oretta prima mi aveva messo a dura prova. Improvvisamente mi accascio priva di sensi sul primo gradino. Dopo pochissimi minuti è giunta l'ambulanza con tre angeli. Così mi sono sembrati mentre scendevano la scalinata. Senza perdere tempo si sono divisi i compiti, poi prosegue. La mia vuole essere una testimonianza sul fatto che le belle persone esistono ancora. Grazie ai tre angeli capitanati dal dottor Gianluigi Piergari, ai quali va tutta la mia riconoscenza. Questa è la testimonianza di Chiara Farigu. Successo per il convegno Salviamo Torre Astura. Presenti i sindaci e il vicepresidente della giunta della regione Lazio. Salviamo Torre Astura. Il tema del convegno che si è tenuto ieri 8 luglio alle ore 18 al Forte Sangallo a Nettuno, organizzato dall'Associazione Salviamo i beni storici e ambientali di Nettuno, con lo scopo di lanciare un appello alle istituzioni al fine di affrontare il tema della salvaguardia dell'importante sito geografico della cittadina nettunese. Nonostante l'AFA, sono state moltissime le persone che hanno partecipato al convegno, prima e fra tutti il sindaco della città di Nettuno, Alessandro Coppola, della città di Anzio, Candido De Angelis, a rimarcare l'importanza dell'iniziativa. Oltre alle molte associazioni e alle persone presenti, è stato il sostanziale intervento di Daniele Leodori, vicepresidente dell'aggiunta regionale del Lazio, il quale, oltre a dirsi piacevolmente meravigliato dalla partecipazione all'evento, ha invitato l'amministrazione a fornire delle idee chiare e precise della possibile destinazione d'uso di Torre Astura. Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, premia in consiglio comunale i campioni della pallannuoto, l'Anzio Waterpolis, e del calcio A5, la SD città di Anzio. Il sindaco di Anzio, Candido De Angelis e il delegato allo sport Massimiliano Millaci hanno premiato in consiglio comunale l'Anzio Waterpolis per la conquista della serie A1 di pallannuoto e la SD città di Anzio per la promozione in serie B nazionale di calcio A5. Nella mattinata di ieri, in apertura del consiglio comunale, il sindaco, Candido De Angelis, e il delegato allo sport Massimiliano Millaci hanno premiato la squadra di pallannuoto dell'Anzio Waterpolis, protagonista della storica conquista della serie A1 e la squadra di calcio A5 a SD città di Anzio per la promozione in serie B nazionale. I membri della massima assise, in rappresentanza di tutta la città di Anzio, hanno salutato con orgoglio nel rispetto delle normative anticontaggio le delegazioni delle due eccellenti realtà per gli importanti traguardi raggiunti. Un momento particolarmente significativo ed emozionante visse le restrizioni sofferte a causa della pandemia che vuole essere anche un incoraggiamento alla ripresa per le tante e promettenti società sportive del territorio. Per la prossima stagione i cittadini potranno usufruire di un impianto natatorio all'avanguardia in Europa, considerato a ragione il nuovo stadio del nuoto. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi rimando alle prossime edizioni del nostro TG Locale. Grazie. 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 Grazie.